Infatti sabato sera alle ore 21 e 15 ci sarà un concerto per pianoforte di un artista di fama internazionale di nazionalità Estone che appunto ci darà l'occasione per tornare in un luogo a noi molto caro. Voglio ringraziare infatti anche l'Agenzia del Demanio e la sovrintendenza che in pochissimi giorni ci hanno dato la possibilità appunto di tornare in Santa Maria in Campo Articcio e poterla vivacizzare con questo concerto. Il concerto è inserito all'interno del Piano Festival del Valdarno 2024 in collaborazione con l'Accademia Musicale Valdarnese ovviamente sotto la direzione del maestro Turini. Sarà una bella occasione perché possiamo sia ascoltare un concerto che visitare la chiesa con i suoi bellissimi affreschi. Tra l'altro rendere di nuovo questo luogo visitabile era una delle cose che i cittadini ci avevano chiesto durante la campagna elettorale e nel giro di ascolto, quindi è un luogo molto caro. Sono invitati anche tutti i turisti che saranno da queste parti nel fine settimana, infatti l'evento è stato inoltrato anche a tutte le strutture ricettive per poter appunto invitare i loro ospiti.